Ecco a sinistra l'arco di Adriano ed ora alla vostra destra il Palazzo Reale e dietro di voi e alla vostra destra il famosissimo stadio dove si svolzero le storiche olimpiadi. Ora stiamo per giungere una delle più belle piazze di Atene, Piazza Omonia. Attenzione alla vostra destra il Museo Nazionale di Arteologia e alla vostra sinistra finalmente l'Acropoli, uno dei più famosi e antichi profetti del mondo. Ancora a destra l'Università di Atene e quindi fate attenzione ai tutti caratteristici che andremo a vedere. Alla vostra sinistra, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, a destra, la chiesa di San Nicola, a destra, la chiesa di Sant'Andrea, a sinistra. Forza signori, svelti, scendete, dieci minuti di sosta, forza svelti, scendere, andiamo di corsa, sveglia, sveglia, soltanto dieci minuti, poi ripartiamo immediatamente. Ah, ecco, scendiamo, va? Beh, andiamo a... Abbiamo solo dieci minuti. Andiamo a visitare la città, cara. Eh, faccia attenzione. Sì, sì, vedo. Ragioniere, mi dia il braccio. Sì, ma poi me lo andai. Angela, attenzione, Angela. Sì. Sì, vediamo. Che mare c'è sto pacco, che c'è sta la colazione mia. Certamente. Grazie. Ecchi me. Ho fregato sto piano ammiotta, io sono l'arma segreta. Ma che sto viaggio è organizzato dall'SS? Eh, dille al commendatore, coi soldi che mi ha dato mi sono dovuto accontentare del giro più economico. Ma che a Rodi ci andiamo col fattito? C'è una nave bellissima e c'è pure la piscina, da vede che dè. Dai, andiamo, se no ci perdiamo.